Gli ha sorpresi insieme e a quel punto è scattata la rissa per gelosia. Un uomo di Avezzano, operaio di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime per aver ferito con un coltello, forse con due colpi, l'amante della moglie. L'aggressione è avvenuta a cerchio nella casa della vittima. Sia la moglie che l'amante sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano. Lui ha riportato delle ferite d'arma da taglio e ha perso molto sangue. Lei, invece, se l'è cavata con qualche ematoma. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il marito geloso sarebbe andato a casa dell'amante con l'intenzione di chiarire. Avrebbe seguito la sua donna attendendo che entrasse nell'abitazione. Dopo qualche minuto il marito ha cominciato a bussare alla porta con violenza, fino a quando non è stato fatto entrare. È nata subito una discussione che ha assunto toni accesi fino a scaturire in violenza. A un certo punto il marito ha tirato fuori un coltello, ferendo l'uomo con diversi colpi. Il ferito sanguinante è stato costretto a calarsi dal balcone rifugiandosi in un'altra abitazione, fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine. A quel punto, però, il marito era già fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo e arrestato con l'accusa di lesioni gravissime.